Vi aspettiamo tutti numerosi per il 7 novembre prossimo, l'ore 17, per questa grande festa di riapertura delle città della scienza. Un grande segnale di speranza, di futuro per il nostro quartiere, per la nostra città. Vi aspetto numerosi, soprattutto i bambini, portate le vostre idee per una nuova Bagnoli. Vi aspetto e forza città della scienza. Sono uno scienziato, non sono un bambino, sono semplicemente uno di quelli che ha portato artisti, testimoni al personaggio. Ci sono Sergio Marra, vi invito tutti a Città della Scienza, il 7 novembre, dalle 5, a partecipare dove vedrete questa splendida struttura. Tante persone, tanti artisti, tanti personaggi, forse anche Roberto Giacobbo di Voyager, che ci saranno con noi per festeggiare questo grandissimo momento di riapertura contro le brutture di Napoli. Città della Scienza è una delle cose più belle di Napoli e ce la dobbiamo coltivare. Ciao. Salve a tutti. Allora ricominciamo, ricominciamo col cervello, ma ricominciamo sempre, come abbiamo sempre fatto, qui a Città della Scienza, col cervello e con il cuore. Ricominciamo perché Città della Scienza era ed è, è tutti noi e quindi per noi, con Città della Scienza, per il futuro e per i nostri giovani. Città della Scienza